La firma tanto attese è giunta al San Gerardo di Monza e finalmente un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Il provvedimento del Ministero della Salute è stato emanato mercoledì. Era un obiettivo della nostra azione di governo, dichiara Letizia Morati, vicepresidente regionale e assessore al welfare. E grazie all'impegno di tutti i soggetti chiamati in causa siamo riusciti a raggiungerlo. Un riconoscimento che rende merito a una struttura di eccellenza, appunto di riferimento non solo dell'Abrianza, ma in tutta Italia. Con il San Gerardo salgono a 5 gli RCCS di natura pubblica in Lombardia, portando 19 al numero complessivo di quelli presenti nella nostra regione. La Lombardia, aggiunge la vicepresidente, possiede il numero più alto di questi istituti fra le regioni d'Italia. Gli RCCS possono essere considerati a pieno titolo anche uno dei motori di sviluppo economico della regione in un comparto in un momento storico in cui è più che mai necessario incentivare la ripresa complessiva del sistema Lombardo nazionale. Ringrazio il governo, prosegue la vicepresidente, per aver mantenuto l'impegno. Il completamento del percorso che porta un nuovo IRCCS Lombardo pubblico dopo 40 anni rappresenta un risultato di grande prestigio per tutta la sanità pubblica regionale. Oltre che per l'Abrianza, che vede premiata un'eccellenza non solo per il suo territorio, ma per l'intero paese. La ripresa dell'Italia e della Lombardia, dopo la pandemia, conclude la vicepresidente Moratti, passa anche dalla piena realizzazione di queste eccellenze. In Lombardia c'è una sanità sempre più al passo coi tempi, dove competenze, innovazione e ricerca sono al servizio della collettività, con qualifiche di altissimo profilo anche nel panorama internazionale.